Instagram down, ragazzi, purtroppo informo che da un po' di minuti o meglio da un po' di ore a questa parte Instagram, Whatsapp e Facebook sono down, non possono essere utilizzati Appare infatti andando nel web una pagina bianca dove c'è scritto che è irraggiungibile Sia Instagram che Whatsapp che per l'appunto Facebook Su Whatsapp l'applicazione si apre però non c'è la possibilità di utilizzarla tanto che rimane tutto in sospeso Quindi si possono vedere gli stati dei propri contatti, quello che hanno condiviso ma non si può chattare Tanto che la spunta rimane una sola grigia oppure il messaggio addirittura non arriva Quindi abbiamo Whatsapp, Facebook, Instagram che sono down e attualmente inutilizzabili Oggi è il 4 ottobre 2021 Mi auguro che la situazione torni a normalizzarsi, me lo auguro di vivo cuore ovviamente Anche perché è fondamentale utilizzare questi social per chi ha degli interessi economici Per esempio via un influencer o un influencer ha tutto l'interesse affinché Instagram funzioni alla perfezione Per condividere contenuti e per monetizzare le foto che va a mettere, a caricare Quel determinato, quel determinato influencer ha detto ciò Non si sa che è successo, non è un problema solamente italiano ma è tutto il mondo Il problema è di tutto il mondo Mark Zuckerberg, spero che riesca a normalizzare la situazione e soprattutto a trovare una soluzione concreta a quello che sta accadendo Ciao a tutti, da Leandro Nardui, Italiano